Musica Amici Rete55 ben ritrovati appuntamento con Bianco Blu sempre dagli schermi del canale 88 del digitale terrestre senti che bello dire così ma soprattutto sui nostri canali social Rete55 e Bianco Blu Rete55 Buonasera Andrea Macchi Buonasera Andrea Scalzi Buonasera a tutti e Alessandro Bianchi Buonasera a tutti Visto che sei tornato tu tornerà qualche infortunato te lo dico subito dei nostri bomber Non lo so però quando tornano si sente la non la differenza ma quantomeno si sente la mano che danno alla squadra anche per rifiatare a chi ha dovuto tirare la carretta in questo periodo sport C'è tornato lui però sta fuori Nico Ti sei dato il cambio con il tuo pupillo Andava bene stare a letto se doveva rimanere in campo Nico Vabbè dai però prima o poi le squalifiche arrivano come le hanno avute le altre squadre anche purtroppo noi È vero è stato preso domenica in un modo un po' così che ha buttato via la palla però vabbè forse non dico che è meglio così però va bene insomma Prima o poi doveva capitare Prima o poi doveva capitare Comunque andiamo incontro poi a altre due partite dove l'assenza di Nico si sarebbe comunque sentita sia con San Giuliani in casa che poi ad Arzegnano quindi una delle due poi l'avrebbe saltata Sicuramente Però secondo me è giusto parlare oltre della Monizia di Nico la grandissima prestazione di domenica la propater che ha battuto 2-0 il Lecco è una prestazione favolosa Beh come abbiamo anche io scritto e detto così cioè giocare innanzitutto abbiamo giocato contro una squadra che era terza in classifica quindi bisogna dire questo La classifica è corta però dai La classifica è corta però aveva comunque determinati punti Che arrivava da un periodo positivo perché era un'altra vittoria Beh infatti l'hai detto e infatti gli ha portato bene E allora No ma l'Ecco ho letto c'è stata un po' di diciamo polemica perché in settimana di Nunno il vulcanico presidente si era lasciato andare come al solito a critiche all'ambiente, alla squadra e tanti hanno detto prestazione dell'Ecco figlia della settimana che abbiamo passato Ma io dico che figlia della nostra grande partita perché noi abbiamo giocato un primo tempo che anche se le occasioni ne hai avute un paio o tre però hai sempre avuto in mano tu le redini del gioco È vero all'ultimo secondo ho rischiato di prendere gol perché ci siamo dimenticati là è uno Vabbè però insomma il rigore sbagliato Ma voglio dire cosa dobbiamo chiedere a questi ragazzi? No prestazione sontuosa Miglior prestazione io ho detto stagionale in casa forse stagionale In toto sicuramente Da quando è rientrato Fietta a metà campo siamo tornati a stare un po' meglio Forse perché ricalca un po' il giocatore che è Brignoli senza nulla toglierà Bertoni che è un giocatore favoloso che però quest'anno non abbiamo mai avuto al 100% e tuttora purtroppo non l'abbiamo Fietta che tra l'altro mi ho coscritto Ha fatto una grandissima partita e un grande gol Dopo la partita ho chiesto proprio a Fietta ma quindi non era un problema fisico della squadra il periodo un po' di appannamento contro il Novare contro la Juventus lui ha confermato che non era un problema fisico ma che era un problema un po' di situazioni Beh sai qualche errore che abbiamo fatto perché se analizzi le partite vecchie hai fatto qualche errore in difesa e qualche errore in attacco senza queste due combinazioni tu il risultato lo portavi a casa è vero che se non sbagli non perdi e se segni vinci Secondo me hai ritrovato anche un po' di convinzione soprattutto dopo la vittoria di Zanica diciamo che vincere aiuta a vincere è più facile allenarsi è tutto più semplice è l'unica nota negativa permettimi come al solito il pubblico tolti i 130 lecchesi veramente la tifoseria è importante c'erano un totale di 716 presenti quindi 580 bustocchi non ci siamo Io sono convinto che anche se fai un biglietto gratis il mio timore è proprio quello non cambia in questo momento non cambia e vabbè è così noi godiamocela comunque da segnalare poi la grande prestazione della difesa che hanno bloccato il loro attacco con Lombardoni quattro partite in cui non subiamo reti e in tre ha giocato Lombardoni quindi continua questa grande merito secondo me anche a Saporetti che tra l'altro ha le... e questa è una delle notizie più belle Sì è una notizia della settimana così come la sua premiazione presso il Bar Franco come ogni mese giocatore del mese Lorenzo Saporetti votato dai tifosi ha vinto proprio al millimetro perché con Boffelli Andrechi è stata una battaglia all'ultimo voto è proprio il caso di dire l'ha spuntata al nostro centrale difensivo e direi che per il mese di novembre perché appunto si rifà al mese appena terminato Saporetti è quello che lo meritava di più perché non ha fatto neanche passare l'aria per distacco secondo me più di quanto dicano le votazioni Sì questo è vero però ragazzi io devo dire che il nostro motorino sulla sinistra si sente ragazzi infatti è arrivato secondo me sbaglierà tanti cross perché ne sbaglia però ragazzi che piedino che ha e che soprattutto la voglia, l'impegno è un po' il vero tigrotto come si suol dire Sì sì assolutamente quindi siamo contentissimi per Saporetti che tra l'altro ha tra virgolette sostituito Boffelli che stranamente non ha giocato domenica Mister Vargas ha voluto mischiare un pochino le carte e ha avuto ragione dando un turno di riposo a un Highlander come Boffelli che non sta mai fuori anche se ricordiamo è diffidato e si parlava proprio di settimana la settimana della Pro Patria è stata veramente meravigliosa perché sette punti solo i più ottimisti io me lo aspettavo sinceramente era il momento di dare un bello strappo alla classifica la Pro lo ha fatto con due vittorie ed un pareggio veramente importante contro la capolista Pordenone che con il pareggio con la Pro ha perso certezze soprattutto ha perso quota perché adesso ormai sono tutti lì Vicenza compreso quindi attenzione no l'unica cosa che tu hai detto non ho capito la classifica ha dato uno scossone però se la guardi la classifica nonostante questi sette punti lo scossone che noi guardiamo perché noi guardiamo sempre dietro non è che c'è stato lo scossone perché sono sempre sei punti di stacco dalla quinta ultima però il morale è altissimo esatto no hai detto bene restano sei punti perché il Mantua continua a correre corre facendo colponi magari inaspettati per esempio a Renate, a Meda ha vinto quindi la Pro resta ottava, nona ma è molto più vicino alle posizioni di testa classifica molto corta sì la classifica è corta però questo testimonia il fatto che comunque noi abbiamo una signora squadra e l'abbiamo detto dall'inizio lo diremo sempre e insomma i risultati stanno arrivando dai infatti adesso le prossime tre io non ho assolutamente paura anzi le guardo con grandissima fiducia perché questa squadra può continuare a stupire e anche veramente mister Vargas sta facendo molto molto bene come ha ben detto Andrea nei due video sui nostri social anche a volte siamo stati anche un po' critici però come dici sempre tu lo ricordi noi siamo tifosi quindi quando vince siamo contentissimi quando perde ti arrabbi perché ho sbagliato il gol siamo i tifosi del bar della domenica e quindi a fine partita diciamo le cose che si dicono le cose un po' di pagia il bar infatti il giorno dopo abbiamo introdotto la mente fredda perché dopo ci ragioniamo pensiamo e comunque diciamo che questa propatria in questo momento ha un'impronta di gioco un'identità è ben definita nonostante le tante assenze quindi va dato merito a Vargas se mai l'abbiamo messo in dubbio noi ci mancherebbe e continuiamo così e speriamo appunto nelle prossime tre partite sempre ricordando le tantissime assenze che avrebbero ammazzato un elefante ah guarda sono convintissimo noi stiamo continuando a far punti ecco la partita di domenica secondo me è una partita molto difficile rognosa molto rognosa perché è una partita delicatissima soprattutto per gli altri ma però diventa in un certo senso appunto perché è molto delicata per loro lo diventa anche per noi se mi permetti facciamo come sempre ormai il Pullman grazie al ProPater Club grazie al Tigrotto al Museo a bustocco.it tutto il coordinamento dei tifosi ci sarà il Pullman partenza a mezzogiorno dall'ITC Tosi cioè in fondo al Viale Stelvio 15 euro compresa il panino e la bibita diciamo che ci accompagneranno durante il viaggio c'è ancora posto vi aspettiamo questa squadra merita di essere sostenuta in uno stadio storico come il Garilli sarà sicuramente una bella partita e forza ProPater quello sempre spiegheremo bene il Piacenza nella seconda parte e poi dopo altri argomenti che ci attendono c'è una chicca di Alessandro poi anche sui giovani sui giovani molto bene allora andate via come si dice solitamente e ci vediamo dopo la pubblicità seconda parte di Biancobluri eccoci in studio e sarà una seconda parte interessante perché parleremo anche di giovani che è la cosa che ci preme di più visto che poi diversi nostri giovani arrivano in prima squadra e non è da tutte le società allora andiamo con ordine Piacenza Piacenza partita rognosa perché loro hanno bisogno di punti in quanto sono ultimi in classifica a pari merito con la Triestina il Piacenza arriva comunque ha fatto tre punti nelle ultime tre partite l'ultima partita è stata ha perso contro la Pro Sesto ma prima aveva vinto proprio la sfida diretta contro la Triestina per 2-0 e aveva fatto anche un buon pareggio a Novara per 1-1 il Piacenza è la peggior difesa del campionato infatti il loro problema maggiore è che prendono tanti gol 33 reti in queste prime in queste prime gare contro le 28 della Triestina e le 27 del Trento quindi è il punto debole del Piacenza pure i nomi non sono così male i nomi non sono così male sia in difesa sia in attacco e nonostante un mister come Scazzola infatti dopo un inizio di Scalise in cui non ha raccolto punti è tornato l'allenatore Scazzola che era già allenato a Piacenza per cercare di mettere ordine loro infatti come nomi non sono male perché giocano con un 4-4-2 e in difesa hanno come terzino destro Masetti da non confondere non è il nostro ex però ma è un 2001 che arriva dal Pisa il nostro mi sa che è Alevico in serie D è Alevico Terme però lo diciamo perché ovviamente appena uno legge pensa Masetti pensa che sia il nostro i due nomi comunque conosciuti al centro della difesa sono Cosenza che è un veterano della categoria già a Piacenza l'anno scorso sì non ti dico come l'abbiamo accolto a busto sì perché è abbastanza falloso oh ma va forse solo quello proviene è rognoso dai usiamo questo termine diciamo che non è correttissimo è la cosa che proprio e accanto a lui gioca Nava che è un giocatore che conosciamo perché in serie D ha giocato per tante stagioni sia nel Legnano sia nell'Imber 1 e ha fatto il passaggio nei professionisti questa quindi come difesa come i nomi Andrea non sono malissimo però hanno preso il maggior numero di reti nella categoria vabbè non è che io gli auguro male a Nava se ritornano i dilettanti con Piacenza un buon giocatore un buon giocatore Nava secondo me nel caso Piacenza è l'anno prossimo perché no ecco sì esatto nel centrocampo abbiamo un fidelissimo di scazzola come Sulice che era già con scazzola ad Alessandria e adesso a Piacenza ma era già a Piacenza l'anno scorso e come alla destra molto offensiva è tornato a Piacenza a Gonzi su Gonzi abbiamo una particolarità in quanto lui è un giocatore pittore ha questa passione per la pittura infatti è una pittura che poi fa diversi quadri che vengono anche venduti secondo me è meglio da calciatore ma dipende noi non sappiamo cosa voglia dire questo quadro perché poi io che non ci capisco molto di arte no però complimenti oltre a essere un ottimo giocatore tra l'altro complimenti perché ha fatto anche un'intervista infatti in cui dice salvo il Piacenza e poi faccio un quadro bianco-rosso comunque come caratteristiche lui gioca come alla destra e è molto forte negli inserimenti davanti i due attaccanti sono Morra che è un attaccante che conosciamo nella Provercelli infatti ed è capocannoniere della squadra con quattro reti giocatore di riferimento proprio il vero Bomber e accanto a lui una seconda punta anch'esso un giocatore esperto che conosciamo come Cesarini che ha giocato nel Pavia ha giocato nella Reggiana e adesso è a Piacenza già anche l'anno scorso era a Piacenza e quest'anno è partito bene Cesarini era devastante era devastante era un giocatore è sopravviato il mago perché un giocatore molto tecnico e quest'anno l'anno scorso ha partito un po' di infortuni quest'anno invece sta giocando e insieme a Morra ha segnato quattro reti sui due capocaronieri della squadra bene bella coppia attacco bella difesa è una squadra che stranamente a livello di nomi uno dice ma cavoli come fa a essere non gli manca niente l'allenatore è comunque un buon allenatore il problema è che forse è partito male hanno fatto questo esperimento con Scalisi a inizio campionato puntando più sui giovani e adesso stanno cercando di rimettersi in carreggiata comunque ho letto un'intervista che faranno mercato a gennaio con un budget importante però attenzione la mia esperienza è che più si cambia in quelle situazioni qua peggio è quindi io andrei avanti con questa rosa e poi tra l'altro Mauro due aneddoti velocissimi il primo è su Nava che Andrea ha nominato io e Andrea Macchi lo abbiamo arbitrato più volte una partita mi è rimasta nel cuore era in Veruno contro Atalanta primavera e Nava aveva provato anche abbastanza bene a tenere a bada niente meno che Kulusevski che ormai tutti conoscono pensa che eravamo in campo io, Ale, Nava e Kulusevski cioè un film dell'orrore apoteosi è stato è stato proprio è proprio un bellissimo ricordo per quanto mi riguarda e invece adesso che vediamo il Piacenza all'ultimo posto in Serie C è proprio vera una frase tra virgolette storica di Andrea che dice come a questi livelli una partita può cambiare il futuro di una società il Piacenza per cui stravedevo ma non voglio tornarci un'altra volta in cui giocava Nicco era a un passo dalla Serie B va a Siena nel maggio del 2019 gli basta la vittoria per andare in Serie B e proprio a Nicco viene annullato un gol assolutamente regolare che probabilmente sarebbe valso la cadetteria non avremmo dubbi che fosse regolare magari era fuori gioco di 10 metri ma era regolare ma il Piacenza lo sa perché ha perso quella partita esatto lo sa perché ha vinto due volte con la propatria però fatto sta che a causa di quel gol annullato e quella sconfitta non è andata in Serie B e in un attimo si è trovato a lottare per la retrocessione in Serie D non ha steso il tappeto rosso l'ha steso bianco-azzurro colore dell'entella ecco esattamente e vabbè chi è che gioca insomma no prima abbiamo i giovani vabbè adesso diciamo i giovani che è la nostra chicca perché lui era lì che aspettava di creare formazione invece calma lo teniamo ancora a vada no visto quanto la propatria ormai è un esempio per tutti mentre la sfida con il Lecco è stata decisa anche da un uomo d'esperienza perché Fietta domenica ha fatto una partita assontuosa da dove partono i nuovi Fietta dalla primavera dalle giovanili della propatria giovanili che con la primavera 4 stanno assolutamente volando perché la squadra di Mister Gentilini che ha appena accusato il terribile lutto della scomparsa introvvisa dell'accompagnatore Pietro Roveda che abbiamo anche ricordato qui da noi sta veramente giocando la grandissima in campionato ho avuto modo di seguirla adesso stiamo vedendo la formazione al secondo posto la classifica veramente bene c'è Primo Rimini che tra l'altro ha vinto a Busto a San Vittore dove la pro gioca le sue squadre le sue partite di casa ma la propatria di Mister Gentilini sta facendo veramente bene ha appena vinto a Sassari 2 a 4 con la Torres e ci sono i nuovi si può dire i nuovi Ghioldi nuovi Caluschi nuovi Piran che stanno crescendo perché appunto sono nati in tanti nella primavera e sono venuti fuori tra gli altri c'è il centroavanti della Pro che è Zanaboni che ha fatto veramente una marea di golla l'ultima partita in casa con della Pergolettese ne ha fatti 4 4 su 4 è finita 4 a 2 il nostro bomber ha segnato così come ha segnato in Sardegna e a me piace molto c'è anche il nostro terzino sinistro di Vieri che mister Vargas ha gettato nella mischia in Coppa Italia c'è Badniewicz che è stato il difensore centrale convocato con la prima squadra e a me piace molto anche il capitano Sassaro fisicamente prestante dall'ottimo piede che ha segnato una doppietta in Sardegna quindi vi invitiamo a scrivere i ragazzi della Primavera 4 che meritano davvero e speriamo possano cogliere la promozione in Primavera 3 allora Andrea hai sentito i nomi perché può darsi che tra qualche anno dovrei dirgli formazione tra 5 e 2 Del Favero i tre dietro Sportelli Ovaghi Lombardoni Boffelli che torna sicuramente titolare sulla fascia destra Vezzoni a centrocampo è squalificato Nicco quindi Gavioli Fietta in posizione centrale Ferri Endreca sulla fascia sinistra davanti sicuramente Stanzani e poi si gioca nel posto Castelli e Piu che giocatore Stanzani Stanzani sta facendo delle cose incredibile 6 gol siamo già a 6 gol quindi viaggia ma non solo i 6 gol il colpo di testa l'altro giorno merita vendetta prima del gol di Fietta però va bene così perché è un raccordo fa di quelle cose che da giocatore proprio da seconda punta di quello che fa il raccordo con la prima punta con il centrocampo bravo gole assist domenica poi entra più fa l'assist diciamo che finalmente ci sono anche delle alternative al titolare il problema degli infortunati è proprio quello ti ricordo due appuntamenti in vista del Natale il 13 martedì festa di Natale al Pro Patria Club il 20 al Tigrotto molto bene siamo arrivati in fondo grazie per la visione grazie Andrea Macchi Andrea Scalvi Alessandro Bianchi grazie a voi domenica a Piacenza alle 14 e 30 e invece adesso e invece adesso TG7 Busto con la nostra e lo dice sempre Chiara Milani Chiara Milani buona serata a tutti grazie a tutti